buona sera a tutti io sono luigio naracco se preferite e bentornati su turno zedocan battle oggi affronteremo guida e analisi al nuovo esa di broli agl che in realtà più o meno l'esa vecchio di broli agl è riportato il nemico è debole le categorie muviros e tech quindi e mi fa strano dirlo ragazzi mi fa molto strano dirlo siamo di fronte alla rivincita di shidku in quanto shidku in questa battaglia è circa utile il team che deve affrontare un doppio shidku con tapion goku god goku god nuovo abiliti 2 così ve lo inizio a far vedere goku lr che in realtà sinceramente serve a poco e il vegeta naturalmente goku lr lo porto ma cercherò di usarlo al minimo salvo che improvvisamente non noto che sto per crepare ma potrei anche lanciare 18 chi fondiamo broli non è eccessivamente complesso come esa lo si può tranquillamente fare anche come virus qua semplicemente attutiamo un po i danni non è questo non è particolarmente forte o altro è un esa abbastanza tranquillo per chi si chiede quel senso a mettere l'esa un pg appena uscito ragazzi non ne ha accettiamo le prendiamoci le 30 stone più tutte le orbe funky kai il mio ragionamento ragazzi è semplicemente questo sono 30 stone in più e comunque come vedremo nell'analisi il pg che ne esce fuori per fortuna c'è acqua come vi ho detto ma neanche parte go per qualche strano motivo qua come vi ho detto preferisco non giocare sicuro mi sa che però facciamo così non giocare con l'lr tiriamo solo la goku è carino goku god lo vedremo nell'analisi nei prossimi giorni è carino è simpatico niente di eccezionale unico inimitabile assolutamente però questo è il vero goku rasengan comunque questo è il rasengan dai però è un buon tank in queste situazioni grazie alla sua passiva i dannini li fa niente eccezionale però funziona il milioncino in doppio gogetta lo raggiunge è quello che si può definire l'inizio per il muviros via vegeta questo vegeta d'altro canto è una bella bestiola ma davvero bella bestiola qua andiamo così così ecco se trovi da me sempre piaciuto abbastanza da quando è uscito quindi voi voi scicco scicco terzo perché con l'esistenza scicco quarto e buonane ragazzi l'evento è abbastanza semplice ora piccolo taglio e passiamo all'analisi nel mente prendo il premio che più mi serve veni sono pesantemente accorto di zeni ragazzi il farming per aumentare le sa di tutti quanti i vari esa mi hanno prosciugato malamente ci vediamo tra poco ed eccoci alla seconda parte del video abbiamo visto come distruggere facilmente broli se non utilizza neanche la fin fine della r la battaglia stranamente facile con shikku ci sono rimasto abbastanza anch'io però ogni pg ha una sua utilità abbiamo trovato quella di shikku dobbiamo reputarci felici forse va bene comunque andiamo ad analizzare adesso però i personaggi che vengono colpiti a quest'ese in quanto come avete visto giocando non riceverete soltanto la medaglia di broli ma anche le medaglie di goku e vegeta ovvero due free to play vedete come questo video un bonus anche se in realtà è il primo uscire delle future guide ipg free to play e pullabili in uscita nei prossimi giorni partiamo partiamo con l'analisi del carissimo goku super saian blu agl esa pg farmabile da goku super saian agl che uno dei quattro pg attualmente farmabili nell'evento di broli che va a tour nella seconda parte e ottiene l'esa per migliorarsi ulteriormente le statistiche che prenderemo in esame sono le full ability sono le full ability dato che è free to play tutto quanto vediamo se ne vale la pena abbiamo 11.470 hp per 13.763 attacco e 8.241 di difesa non malissimo non malissimo nel caso non si abbiano altri super saian altri luogo super saian blu può essere anche un'idea la leader skill ma si chi metter 300 240 per cento quindi buono può essere utilizzato per farmare le sei vari goku blu quindi abbiamo finalmente un goku blu un po più sensato è lungo il farming ci vogliono 20 20 medaglie quindi ci vuole un pochino però è un modo alternativo per aumentare l'SA di gokaio in vista magari di una futura versione v2 barra di una futura di un futuro esa la leader skill a esa diventa più 3 chi è sta 77 per cento ai muviros non male leader secondario della categoria purtroppo la categoria è molto debole di suo se non avete gogetta non penso ci sia motivazione di giocarla davvero un peccato però carina e 2 chi è sta 30 per cento agli agl davvero inutile però quantomeno quantomeno il pg ci prova il pg ci prova può essere un qualcosa di carino accettabile molto alla lontana la passiva diventa un qualcosina di carino attacco difesa per 77 per cento con un più 4 chi e 50 per cento di difesa contro i movibossis movibossis è una categoria che come ben sapete anche voi si incontra spesso nel gioco sono tanti movibossis nel gioco quindi è comunque un boost che avrà spesso il nostro carissimo goku però è un boost prevalentemente difensivo in attacco fa poco nulla la sua special gli aumenta l'attacco del 50 per cento per un turno però è un moltiplicatore special noi dobbiamo giocare con un pc che ha un 80 per cento va bene full ability va bene free to play quello che volete è buono a full ability però richiede un investimento di risorse non indifferente le vale quelle risorse a mio avviso non più di tanto è un avviso non più di tanto costa una marea di zen e tutto quanto portarcelo non è proprio una cosa migliore i link sono anche buoni i link sono anche buoni giocabili in realms pure e moviboss pg che prova a calcare le orme di gohan è piccolo ma non ce la fa il fatto che sia comunque free to play in questo caso si sente abbastanza mi avviso più che in altri pg gohan comunque signor pg piccolo non era magari il pg della vita ma era comunque più che buono il mio consiglio è farmatevelo apritegli le porte cioè nell'abili però salvo l'abili davvero un fottio e mezzo di zen non vale neanche la pena portarlo al 140 farmatevi lezza più che altro per le stone e per le medaglie degli altri pg brawli in primis carino ma no purtroppo non entra tra i free to play belli o meglio bellissimi e sempre in questa categoria possiamo avere anche il vegeta super saiyan god tech super saiyan blu tech lui era l'unico di pg portabili a tour già con lo scorso a parte dell'evento in quanto si poteva già fare ed era il primo leader muviros uscito detta come va detta vi dico lui già lui già ha più senso di essere giocato ma andiamo a vedere perché 11.679 hp per il 13.961 attacco e 7.949 di difesa e finalmente il metodo di farming dell'sa dei vegeta blu cosa che ci mancava anche vegevo può essere farmato con lui quindi se ci vuole ci si metterà e pian pianino ci vogliono circa 4-5 run salvo sculate per riuscire a maxare di medaglie questo pc quindi un pochino ci vuole la passiva esattamente come quella di goku solo in chiama offensiva quindi attacco e difesa più 77% e 4 chi è 50% attacco contro i muri bosses allora ragazzi lui a differenza di goku e la specie gli aumenta la difesa e non l'attacco allora lui a differenza di goku a mio avviso è leggermente meglio la leader skill come ho detto è uguale a quella di goku più 3 chi è 37% emovirus 2 chi è 30 high tech 2 lo lepto meglio di goku molto meglio di goku può essere davvero un pg interessante per account molto incompleti però naturalmente ragazzi mi pare scontata questa cosa però la continua a dirci sono pg buoni quello che volete in account incompleti se avete account completi mi vale poco la pena ci sono molte battaglie contro i muri bosses e contro i muri bosses è un pg che comunque c'è il suo buon 127 per cento 130 per cento d'attacco cosa non totalmente da buttare per 13 mila d'attacco capite che può essere qualcosa di interessante come sub magari in un muviros incompleto e voi volete giocare muviros non volete giocare metamor o pg metamor ma non avete pg portarlo fu l'ability potrebbe essere interessante rimane ragazzi purtroppo un pg molto sottotono globalmente se appena trovate qualcosa di meglio probabilmente lo metterete nel dimenticatoio ma fino ad allora è innegabile che sia il free to play di questi due esa più utilizzabile build 20 è critico e potrebbe dare anche soddisfazione lui potrebbe valere se avete account incompleti quindi le vostre e vostri zeni e tutte le vostre cose naturalmente controllate un attimino come siete messi perché non è detto non è detto e dulcis in fundo parliamo invece del pg pullabile ovvero broli agl rateful che sarebbe broli agl in quella forma spoiler per chi non sa nulla del film quindi mutatevi per 30 secondi nella forma in cui controlla lo zaro ecco dato che questo è ben o male uno spoiler che non si può capire quindi voglio farlo ragazzi il pg alla prima vista quando non sapevo dell'esa carino carino ma niente eccezionale sinceramente l'ho visto simpatico pg caruccio ma non mi sembrava chissà quale bestia immonda quale creatura devastante dopodichè è uscito l'esa è uscito l'esa e è migliorato talmente tanto che sto dannato dopo aver portato broli e paregas l'ability 1 e aver trovato la prima copia di lui mi ha fatto buttare a 350 stone pur di avere intanto pur di avere l'ability 1 quindi ragazzi preparatevi perché è una bella cosetta lui preferisco non affrontarlo ad ability full in quanto è un esa particolare quindi lo affronteremo ad ability 0 come affrontiamo i suoi tpg ma già con le stazze da esa ok quindi partiamo 11.163 hp per 11.668 attacco e 5.606 di difesa sulle stazze una volta che livello 140 per chi mette 212 se qua il pc mi da una mano riusciamo a vederlo 140 per cento per il nuovo leader più se qua ragazzi sembra assurdo a dirsi ma è il nuovo leader più se qua ora naturalmente vegevo è superiore a lui come leader mi pare logico vegevo ha un 130 attacco 150 no 170 hp di difesa giusto lui ha un 120 per cento tutto quindi ovunque risulta inferiore però però lui ha anche più 3 chi è 100 per cento stati agli extrema gl ora questo comporta questo comporta che ipoteticamente è nato il pure seian extrema gl ok ora il pure seian extrema gl ha un problema ovvero di andare contro il movibossi extrema gl però nonostante le stazze siano decisamente inferiori il boost almeno delle stazze siano inferiori nel movibossi giocare doppio broli come leader di un extrema gl da un debuff a metal cooler ragazzi è da ammettere da un debuff a metal cooler ma ma da un buff a mageta da un buff al nostro carissimo mageta che ragazzi può sembrare una cacata come cosa però in realtà se ci pensate un attimo può essere un qualcosa di interessante quanto meno oltre questo oltre questo naturalmente permette permette giocate un po' differenti come il movibossi agl attualmente il movibossi attualmente si basa su una turnazione avente tarles insieme all'altro tarles l'altra turnazione che gioca con metal cooler avente il tarles riesce comunque a dire la sua come team però manca un pochino poco poco di mordente anche perché dare agli extreme agl tre chi è stato 50 per cento è davvero poco ora che possiamo perdere quel 30 per cento perché un 30 per cento che perdiamo distanza ipc principali ma guarniamo un 50 per cento i secondari a mio avviso si può avere un miglioramento sostanziale del team dovrò testarlo dovrò testarlo però però secondo me è un team che ha futuro come nuovo top extreme agl anche perché due disti robi a mio avviso potrebbero risultare più impattanti in una battaglia di due tarles comunque se non si trasformano hanno il danno che hanno e tutto quanto è da testare però già il fatto di giocare un magetta non con il 50 per cento ma con il 100 per cento cambia un po' gli abbi raddoppiamo le stats ragazzi raddoppiare le stats non fa del tutto schifo eh ma anche giocare un rosè con stats raddoppiate ok no non è in prossimo quindi si ah no che cavolo sto dicendo no scusatemi scusatemi ma getta si becca il 120 per cento quindi buonanotte il team secondo me ha molto più futuro ergo portatelo immediatamente a 140 subito la passiva la passiva anche questa è davvero buona potrebbe sembrare un attimo particolare però funziona all'inizio del turno lui guadagna un chi così guadagna un chi e attacco e difesa più 70 per cento va bene quindi niente di escezionale attacco e difesa più 70 per cento l'abbiamo già visto millanta volte ci può stare dai niente di particolare giusto? giusto però ogni volta che bro li attacca prende un 20 per cento di difesa ogni volta che subisce un attacco guadagna un 20 per cento l'attacco cosa sta a dire questo? sta a dire che come bene o male dovreste aver imparato continuerà a pomparsi attacco e difesa ogni volta che passa un turno questo porta ad alcune cose interessanti abbastanza interessanti vi dico questo bro li può arrivare a full ability a quasi 3 milioni d'attacco nel team di bro li ok? 3 milioni d'attacco questo perché questo perché dopo aver subito in 4 attacchi e non ci vuole molto in 2 turni dovreste aver subito il suo boost diventa di 206 per cento d'attacco eh sì 206 per cento d'attacco un signor boost a mio avviso davvero grosso mentre in difesa in difesa una volta che riceve tutto quanto dovrebbe arrivare sui 156 per cento quindi proprio una bestia anche su quella pg davvero ottimo che ragazzi io vi dico eh se avete sto roba di ability molto alte bro li lr ability basso ability free devo fare i test io ce l'ho ability 1 purtroppo lui però bro li lr potrebbe non essere ottimale in quella situazione poi naturale l'ability full cambia completamente la storia però bro li lr potrebbe non essere ottimale anche perchè bro li lr si becca tanti di quei danni che la metà basta sto roba diventa un muro diventa proprio un muro un gigantesco muro cattivo come link c'è poco da dire è ottimo sign of error re o meglio è ottimo per linkare col bro li tour che vedremo domani o dopo domani sign of error re sign of lineage prodigio berserker che non vedremo molto attivato a mio avviso berserker come link però è quel piccolo plus che può sempre far comodo è shocking speed però for battle e first battle niente di eccezionalissimo come link però funziona fidatevi ragazzi funziona categorie movie bosses e pure sejan non è in full power ma il caro bro li fisico ci aiuta dando anche una leader skill minore a movie bosses quindi giocabilissimo anche sotto quell'avviso funziona come leader quindi ricapitolando funziona come leader pure sejan in mancanza di vegevo assolutamente si funziona funziona anche bene se avete bro li se avete nuovo bro li riuscite a fare faville perdete poco attacco per soprattutto hp e difesa però niente di eccezionale funziona come leader extreme agl cavolo se funziona è il nuovo leader extreme agl e non è neanche esclusivo ad okam festival e riesce a buttare fuori tarles dalla posizione da leader rimane un buffer che ora è aumentato ulteriormente di utilità tarles a mio avviso ne parleremo a fine anno magari in un video particolare su dieci cose su dieci personaggi non dico altro sotto il mio punto di vista però solo quindi magari vediamo vediamo probabilmente fossi in voi il 31 starei attento a cosa esce comunque è un pg che funziona giusto quello che deve e la sua special ciliegina sulla torta gli aumenta l'attacco e la difesa per tre turni gli aumenta l'attacco difesa del 30% arrivando a un ulteriore moltiplicatore tre turni vuol dire all'incirca star fermo sul 60 90% ragazzi c'è poco da dire questo a mio avviso per ovvie ragioni risulta essere il miglior tour non do cam festival del gioco a mio avviso unicamente per calesa naturalmente unicamente perché l'esa non avesse l'esa cambierebbe totalmente la storia senza ese il pg era un fantasma di quello che è adesso soprattutto come leader ma anche come passiva che si fermava prima con l'esa cioè non la bacia di broli si salva per sto pg se sto pg non fosse così probabilmente nel sepullare non avrei trovato molte motivazioni per consigliarvi la bacia di broli ma riuscire a trovare lui ad ability 1 e broli ad ability 1 anche se tagli inizi vi da tanta tanta roba quindi buttateci un occhio se l'avete trovato perché è davvero un gran pg detto questo vi ringrazio di seguito noi ci vediamo domani con il prossimo video grazie di tutto e buona serata alla prossima grazie a tutti